Ben ritrovati, eccoci pronti oggi a parlare di Gianni Morandi, di cui non potremo sicuramente dimenticare l'immagine di quando si è presentato con una scopa per spazzare via le rose e le polemiche anche dal palco dell'Ariston. Ecco che di recente ha raccontato anche la nascita del nuovo album Evviva, che appunto è uscito in primavera e del tour seguente. Dunque la colonna portante della musica italiana ha ripercorso 60 anni di carriera parlando di questo nuovo disco, uscito venerdì 3 marzo e del lungo tour Go Gianni Go Morandi appunto nei Palasport. Questo disco è nato il giorno dell'incidente, ha spiegato in una intervista, Giovanotti mi ha chiamato per sapere cosa fosse successo e mi ha detto ti mando una canzone che magari ti mette allegria e mi ha appunto mandato l'allegria. In quel momento è nata la collaborazione con Lorenzo, la frequentazione e le tante date insieme del Jova Beach Party. 9 Palasport questa primavera nei quali si esibisce con una band fantastica con cui mi sono trovato molto bene, ha spiegato e con cui ho fatto delle prove bellissime. Sono ottimi musicisti, giovani e bravi, ho davvero voglia di fare questo viaggio attraverso l'Italia. È bellissimo tornare in mezzo alla gente, per me è la parte più bella dell'essere un cantante. Alcuni amano l'aspetto creativo, io invece cantare con le persone, emozionarle ed emozionarmi. Quanto a possibili ospiti, nelle varie date Morandi ha spiegato che San Giovanni ci sarebbe stato sicuramente al forum. Poi ci sarà anche appunto una band di 13 persone che daranno una dimensione sonora inedita, ha spiegato. In mezzo invece ritaglierò un paio di spazi cercando di creare momenti di intimità con voce e chitarra. Ho inserito brani nuovi, canzoni che non puoi mettere e ho cercato di pescare tra il 1962 e il 2023, tra circa 540 canzoni, davvero numeri da capogiro. Devo continuare a correre, ha poi aggiunto, finché ce la faccio non posso smettere perché se ti fermi e poi non riparti più è quello un brutto momento perché ti metti la copertina sopra le gambe davanti alla tv e ciao. Spero di rimandare quel momento lì anche se prima o poi certo arriverà. Così appunto ha risposto riguardo a piani futuri. Nessuno sbilanciamento invece riguardo a possibili eredi musicali, mentre non esclude di poter tornare sul palco dell'Ariston come concorrente del Festival di Sanremo e non più come conduttore dopo l'esperienza, seppure positiva, con Amadeus. Fin qui dunque il presente di un Morandi che ha comunque 78 anni e una carica assolutamente invidiabile. Almeno l'avrebbe avuta e l'ha avuta fino all'ultimo anche Lucio Dalla che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni a marzo scorso. Ecco, i due insieme hanno realizzato un brano con il quale ci piace chiudere questa puntata caratterizzato dal classico ritmo di Dalla, dal sax, dalle voci profonde e acute che è Dimmi Dimmi. È un brano che è stato eseguito anche diverse volte dal vivo, da entrambi insieme e che ci porta alla fine degli anni 80 esattamente al 1988 e all'album intitolato Dalla Morandi. Ne facevano parte tracce come vita, contesto di mogolle, musica di Lavezzi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, ma anche appunto Dimmi Dimmi chi è di chi erano i Beatles, Felicità, Il Cielo, Il 2000, Un Gatto e Il Re, Disperati Complici ed Emilia, con la voce e la partecipazione di Francesco Guccini. E allora adesso spazio a Dimmi Dimmi. Buon ascolto!